eccoci qua ragazzi partiamo oggi un orario dai 4 minuti alle 21 e 04 ci siamo in questa venerdì improvviso di live ma c'è voglia di farla quindi buonasera buon venerdì 6 settembre sta accadendo vedo delle robe non ci penso dopo ciao dallas e con noi molo senza non è il 92 ma è 26 97 nicola andesco io ciao ciao a tutti ragazzi buon venerdì sera se voi state bene io sto bene non dico nulla sono successe robe per propria scaramanzia non dico nulla oggi facciamo un po io start a parking ma perché si alla fine avevamo per fare qualcosina di particolare un'oretta non prendendo non facciamo troppo facciamo qualcosa di molto shallow siamo pure in attesa dovrebbe avere la realeza visto che comunque a che ci ha detto lui se fare live che ricordiamo che a nicola io ho detto no non faccio live è vero nicola va bene entusiasmo alle stelle di nicola quindi ragazzoni a te andrei già subito così giochichiamo un po di più e non perdiamo tempo però devo cercare dove il gioco andiamo andiamo ciao bello è il ghiaccia si si ancora con te le stesse cose ci sono sempre bello come o mai non riesce a più niente a nessuno se lo spavano queste cose ma c'è ancora chi ci casca che oggi mi è arrivato un sms e tanto volevo dire ma poi avevamo appresi da discorsi ma aspetta che adesso dov'è andato a finire pipì pipì qua c'è nemmeno tra lo spam come un sms secondo che altri volume papà ho perso il telefono questo è il mio nuovo numero per scrivermi su whatsapp si 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 aspetta io non sapevo di avere un figlio quanto pare ce l'ho e soprattutto sono così stupido che clicco su un url.numero di telefono senza che invece mi abbia veramente inviato il numero addio mio è la partita privata faccio da host ragazzi il codice della lob fate due ripristi nella grafica è 84 cento cinquecento è facile di come numero dagli e cento cinquecento private match devo unirmi no devi fare partita privata unisci te lo inserisci e inserisci il numero 84 cento cinquecento madonna io sono al livello 35 questo gioco del cazzo tra l'altro ricordiamo che io io ho 35 e io 23 l'ho ricomprato ricordiamo che io sai che a parking esce dal game pass giorno 15 infatti è uno dei motivi che l'ho tolto dalla 12 ore perché molto probabilmente allora io mi ricordo come ci gioca vabbè devi soltanto andare in giro a parche a porcheggiare è arrivato lieza quindi aspettiamo che si va che palle sto gioco di merda va bene l'esa sì no va bene tutte e due perché palle sto gioco di merda vabbè dai aspetti stiamo aspettando mi sto scocchiando le dita sentiamo nicola parliamo tanto si tratteniamo un poco cosa hai mangiato di buono questa sera per l'ho preparato degli hamburger e poi ho fatto anche le patatine fritte per infatti io le patate le patate le tagliate a stecchetti cazzo hai fatto le patate fritte con le patate pensa poteva farlo col però purtroppo mi sono scontrato col mio peggior nemico il ragno fate no è la patate a e quindi adesso mi manca un pezzo di mignolo però oddio mia di colla perché scusa sale coltello e pelare le altre nove dita dai si effettivamente che te serve poi mignolo poi cazzo te serve il mignolo va perché sei il prof quindi il mignolo col prof va bene non fare più la live se quello invece mangiare gelato avviasse il gioco credo è più buono il gelato credo sia andato a prendersi gelato proprio stava già mangiando secondo così ora sta piantando il suo computer a manuello capito quindi poi il tempo tirando la corda e tipo molto si tipo 10 no quello è molto zappa nota tattatatatata sì 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 che bene nicola quindi quindi mi sto di quanto ho capito se hai già cenato sì o io no ben mica sentato adesso no ho detto da meno due minuti se ho razza resa razza allora vediamo un po quella è la partenza ce n'è 1 2 questo gioco le mappe sono generate prosperamente no sono sempre quelle le ma più io gioco la campagna più quando ho solo la partita si sbloccono mappe quello che vi sono accelerare non poi non puoi accelerare non puoi frenare non per favore non puoi lavorare i pantaloni dai ma dove si va a miseria aspetta quale è il tasto per torca giu qual è il tasto quello che ti fa grazie nicola grazie nicola e l'ho detto sette due volte ma cimbo di vola forse io che l'ho sconosso mi ha spinto potrei essere stato io ma c'è un po' no era fatto lì si è congelato nel culo ma dove sono torca bestia ma io sono stupido oddio oddio se se a parte no ho finito la strada ma si faceva così come è finito la strada scusa sono uscito dalla pasta sono uscito dalla pasta porco lo cane quanto fa schifo sta macchina sono tutte uguali si no le macchie sono tutte uguali lo so io sono tutte uguali è proprio quello che dico fa schifo ok ma non l'ho toccata ma che bravo ma porco zio ti uccido guarda te finito ma mi ha fottuto di cola mi ha fatto bene che bastito tre ore fa dai a moro bravo dai moro posso apportare guarda quei due posso apportare mandare sotto andiamo a lesa che va giù perché c'è gelatino tutto può andare sotto per quanto non so farci giocare ah si ci divertiamo tra di noi guarda lesa come accelera in maniera incostante era tipo io ieri che shoppavo perché non trovavo niente di c'era la truffa lì c'era una ok due me ne mancava bastardo nicola di merda è proprio bastardo oddio mi è spuntata l'erba dopo guarda è qui è un po' caotica la cosa vedo no 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 oggi oggi non vuolo parlare no no che cos'è? cos'è? dallo perché hai preso no ma c'è? ah ma prendi poco qui praticamente si ma se tocchi un'altra macchina se tocchi un avversario lai mine le celentane lei la passi al tizio all'altra macchina sono un pierda bene questa mappa è terribile si è bruttissima cioè bruttissima porca toia dai l'ho parcheggiata non è vero non è vero ok no ma perché c'è una mina lì? e le mine le son messe lì per miee vabbè non è possibile Nicola? spaccimmi Nicola perché c'ho mi da ls eh cos'è ls? eh ls è se pigli fuoco e lo premi e ti spegne capito? questo è di merda è una goccia d'acqua e se pigli fuoco no ok no picciotti 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 ok porca peste ma che serve qua scusa facciamo un restart rapido si di pad giù di pad giù vabbè sono scoppiato perché? vabbè guarda quelle mine là dai eh io tolgo la TR2 i termosifoni hai buttato tu eh era palese ma hai buttato giù eh sì ma era palese cioè porca troia Napoli 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 forza Napoli 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 vabbè dai ce la faccio appare un altro dai che sono un coglione si è pagato caccia nera non due ciao Giacomo no fammi indovinare Fabio parcheggia giusto eh sì esatto bravissimo mai lo so ciao Giacomo come stai? ah però lì è il secondo ah la catena di smontaggio ah è il traforo del monte bianco uno due tre sono tutti qua i parcheggi però sarà molto difficile farli perché sono due quelli che facciamo i siti tutti disse quello spingendo pur di passare io io che palle il ghiaccio preso uno no ero lì sento moro Nicola vabbè ma non non mi spi porca troia dai il problema il problema è non puoi nemmeno sta troppo fermo perché se no ti da la segnalazione del car butante no ti da che hai parcheggiato sì io adesso giuro ciò c'è 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 non è una brutta idea guarda qui sono non me l'ha dato ma non è vero non no questo era vero facciamo le cose puttana seria ma dai è facciamo sì dai devo per forza andare dritto perché se non ha esploso ma ho toccato che era chiuso se la tocchi pure dall'altro lato se è un po' in movimento davanti esplode ti manca l'ultimo non sai come fare porco no c'è uno che ha dato fuoco a tutto il server di minecraft come? di nuovo? fino a oggi sappiamo chi è e ora stavo dicendo se è per me a bannarlo perché è successa anche la volta scorsa come ha dato fuoco al server di minecraft? ma non doveva chiudere ieri? io ho sbaglio no chiude stanotte forse ora non aveva fatto il salvataggio nooo è lo stesso dell'altra volta che ti sa no non lo so che peccato c'è anche la volta scorsa che piano piano dato fuoco a tutto il server si ricordo sei un pirata che peccato no no credo che un google log si possa fare ah è perché c'hai comunque log si si no lui dai log può vedere anche chi mette un blog no no il log lo sappiamo chi è no è per salvare il server peccato quindi comunque lo fa stasera quindi peccato credo sì se l'avessi già fatto se l'avessi già fatto meglio vabbè che puttana che danna ha detto che mo l'ha detto puttana dai se ho guardato primo stavolta ho superato il liezo mi colla ti stono dietro cambiamo gioco no concordo no allora finita questa faccio altra gioco madonna liezo adesso capisco perché non lo faccio tant'è che ora sono già 9 e mezza le 10 chiudiamo minchia mezz'ora e vabbè è un'ora di rai devo fare che è successo che gioco si può fare ormai non mi fosse città a caso dai 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 lasciamo decidere alla chat che non c'è diciamo una live di gruppo su only sleeping am only sleeping dai ci mettiamo a dormire tutti insieme chi è quello con i decibel più alti quando russa ci mettiamo a dormire tutti insieme io non so se è russo è che pokemon sleep non so se è russo sai a queste battute oppure andiamo su pokemon gognuno nella sua città gira vediamo è 76 italiani figurati russo ci vuoi dalla springo nella tua città magari a piedi veramente ragazzi non riesco a prendere quel porchetto con i trucchetti da 4 soldi ma questo è vero o è finto ah è vero facciamo così ma che gioco è fietto buona ma dai date se volete date alternative valide cert'aua non posso fare clicky towers perché no ma piuttosto mi impicco guarda quello non oh mio dio ma voglio che l'ho mai e mai nella mia vita più è un gioco oh di oh dai facciamo reaction che palle di gioco che palle di gioco che palle di gioco se c'erano ancora i watch party magari come ci si arriva di là ci guardavamo un gioco di merda no non ci sono ok aspetta ma io non mi posso più mi sa eh sì dio maledetto finito finito eh sì è vero devo andare dritto per di qua mi sa eh vai dai dai se dalla se il batte di colo ho vinto no dai ne manca uno ok vai avanti mole ferito e gira e ritorna città di faccia non so dov'è l'ultimo io gira lì bravo no non è quello non l'hai preso vediamo che succede dai pare 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 però perché devi vincere di colo no ma io ho due volte dieci quindi ho vinto io fatti dovrebbe vincere Fabio c'è dovrei vincere io no tu perché c'è la perché tu hai fatto sei punti Fabio per quel cento hai fatto due volte dieci le matematiche i punti sono feli i punti sono uguali sarà per il rating forse perché appunto hai fatto sei punti alla seconda gara eh però ne ha vinte due eh ma vinte se uno fa fare i punti dovrebbe vincere l'itorno è scacciato credo sia credo sia è perché sei napoletano è un bel gioco sentiamo la cagata sentiamo la cagata crunker ecco t'ho detto che era una cagata dai dai facciamo qua dai dai streamo streamo il mio mignolo e reacciono il mio mignolo dai facciamo una nascita oh ragazzi la live io non volevo farla sta live ve l'ho detto voi l'avete voluto chi è? eh? chi è il foil l'avete voluto vado al singolare voi voi vado bene eh è bellino come gioco rilassante l'avete voluto beh guarda meglio di rumble club se no c'è l'altro gioco si può fare ultimate god speed minchia è vero quello è divertente ma non era bello allora però il problema è lezza non ti piace le spaccim che culo stavo per uccidre timoro forse ero io che stavo per uccidre no stavo per uccidirti perché mi stavi per uccidere quella era qualche volta facciamo le death run su ttt non posso perché no perché devo andare a modificare il server per la maggior parte basta non farle sul tuo server basta non farle sul tuo server ah se si può fare eh sì perché nel server devo andare a modificare il map vuoto la modalità di gioco è un tito in culo devo mettere le mappe facciamo fino alle 10 precise chiudiamo tanto non c'è niente non dobbiamo fare sì che io veramente voglio andare a dormire l'hai preso Fabio quello? penso proprio che si peccato il bumper no vai dritto bravissima dov'è l'ultimo dall'altro lato della madre dai bruttari voglio l'interventa maicchio dolore alla gamma da oh no Nicola che palla il facciamo salvato terzo eh salvato terzo il palla porca miseria chi è dalla hai detto solo le nove e mezza guardate adesso non c'erano ancora le nove e mezza adesso ah finché sono le nove e mezza ah ho fatto caso ho visto male dal secondo monito eh che vuoi da me eh c'è bene c'è bene c'è bene dai penso un gioco da fare in 5 che non sia sia lascia che io ci facciamo l'ultima mezz'ora e poi me posso pure chiudere dopo trenta e ultima che mai l'ultimo parcheggio eh è la strada della mappa dallas c'è la lì ma che ne so ma che quali devi prendere tu dov'è l'ultimo parcheggio no veramente l'altra matta della mappa piglia il nether lei avanti eh il nether devi parlare minecraftese ti sto dicendo andare dritto di niva dove era qua no mai non prendo questo no c'era nessun nether c'era un martello gigante rompi con gli occhi no dovevi andare oltre il martello sempre dritto dallo spawn allora vediamo un po' com'è questa oddio ne partiamo da qua ci sono due parcheggi all'inizio altri tre su un altro su un altro e un altro quindi tutto dritto è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto sì soccola oddio l'unico accesso è farmi sto trampolino della micchia per qualsiasi parcheggio sì orda chi l'ha fatto il chi ha pensato più su se fatti con le del design topo giccio il non musk è una pista testa è una tesla di cazzo mi è piaciuta bravo porco eh la mamma no ragazzi per la prima volta ho dovuto riavvivere io dico no io capisco la difficoltà perchè parla è difficile ma non dai ci stanno a far dare incoglionidi su ballas eh da non è colpa tua è colpa della mappa che è una mappa che l'ha creata purtroppo è una mappa un po' di merda no un po' senza un po' è una merda canguri porca foia no dai non devo sbagliare così all'ultimo dai preferivo la mappa con lì le cose quella la seconda sulla neve con le cose che ti schiacciavano in tre secondi mica di tutto come l'era dritta carca puttana dai muovì viene una sincoba oh finalmente si già faccio schifo al cazzo fatto si chiama Nicola che talamente è pene ultimo Nicola che succede? niente non posso dirlo in live vaffanculo il miglio no? no non voglio ma ci sei veramente tagliato il miglio no Nicola? si voglio vedere la foto tanto ormai tanto ormai tanto ormai tanto ormai tanto ormai c'è preso si è preso gusto c'è preso gusto con le foto faccio le pulicare che buo dai nooo volendo va bene come ti piace Nicola non cadere macchina di merda foto come la preferisci fai tu a piacere tuo ciao feffa feffa vuoi venire intuffolatte no non venire ma tanto dobbiamo 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 vedi qua giocare prendi posto mio ma dove vai tu dove cazzo vai vedere per aluward non c'è da vedere il server che va a poco facciamo la reaction a quella dai vedo che vuolo l'ha chiuso no ci stanno giocando di là stanno tentando di spegnere tutto cosa ha fatto posso chiedere una cosa io sono ignorante come ha fatto a tua fuoco ha fatto la stessa cosa anche l'anno scorso ma solo la cosa a tua ah e oggi per bendicare se l'ha fatto a tutti no l'anno scorso l'ha fatto io sono entrato varie volte avevo notato fuoco prima un pezzo poi un altro poi un altro ancora tanto le costruzioni sono praticamente in legno quindi rimarrà solo il vesuvio quindi che hai dato a terra ma l'avete visto lì hai detto il vesuvio si è andato una volta brutta ho sentito chi è che l'ha detto sono dei bastardi che non sono riuscito a percavarsi quando sono andato a pranzo poi non l'ho l'avete visto va bene la prossima volta farò come qualsiasi persona media copierò una casa presa da internet invece di usare l'originalità se rispondessi che non mi va che tu ormai non ci vuoi più feffa eh fai bene feffa guarda sono molto ma si spaccim porca puttana dove son finito nooo dai gente magnifica mi fa male il cuore un attimo e allora chiudiamo dai aia aia no meravigli un attimo un attacco serio abbiamo fatto le nostre 30 minuti di live no si pala ce lo facciamo ce lo facciamo calma il gesso calma il gesso calma il gesso calma il gesso calma il porco dai che l'hai ripreso calma e mai col gesso sto laccando era bella tutti scusi si sa che abbiamo ogni volta ho preso lo penso no sono uscito ma io sono veramente il signore come faccio vincere stare cosa come faccio vincere stare come posso vincere termo giorgione giorgio basari per ragà io non so dove andare qua cioè che cazzo è andrea grazie di 59 mesi ciao costa ma la calamita fa male ciao andrea paccheggiami questo come va costa tutto bene oddio io non so dove andare ve lo giuro e c'è un punto da andare dall'altra parte della mappa però non so come tu ci arrivi e nemmeno io fatto finito si sopravvive anche anche io tutto bene tutto bene se tutto va bene ho delle novità che non dirò per scaramanzia fino a quando non vedo le cose lo disco tu lo sa qui voi non ve lo dirò appena so qualcosa proprio se è quello come abbiamo pensato se è una bella novità non faccio la transizione cretino sta di cazzo felix grazie per le tre non so se è una bella novità ma poco pietra ragazzi scivola no si esplodo di nuovo esplodo isle ok ma poi a più controllo io faccio sapere il cadavere di una macchina sì però anche se non mi viene addosso ma l'ho preso come no il cadavere di mono no 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 stavo facendo un gioco che allezza piace tantissimo no 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 ma no bestia bestia scusa no dalla sono proprio qui nel mezzo almeno per cazzo non posso andare per la macchina vedi è bruttissima sta cosa scoppia ma non lo fate dai demo solito demonio ero demo sono fatte più un cazzo va bene il stacca parking no overwatch no fortnite no non c'è punto escalativo overwatch facciamo con un bel gioco la più grande truffa videoludica con concord e poi truffa che non a un certo punto relativo nel senso non maligno del termine ma secondo voi concord o the day before lì che si chiamava si poi il peggior scam direte the day before cioè concord il gioco c'era esatto cioè dei before hanno venduto un qualcosa che non era cioè nel senso le immagini concord il gioco era c'era ed era finito quello era qui semplicemente come diceva lezza secondo me hanno sempre proprio sbagliato non hanno sbagliato a non aspettare dico ok che i citati non erano entusiasmanti però dico potevi tenerlo un mese c'era sviluppato sette anni sto gioco di valmeno dagli un po di tempo c'è quello in pre beta di valve che sta andando di brutto qual è però diciamo che vabbè lo scarico giocandoci la giocandoci c'è parlando come parlavano con liese ciao ciao giro giro parlando con liese c'è un po di stanca proprio nel settore videoludico con codon quello che dice lui c'è c'è finito i campi mans vaffanculo c'è proprio stanchezza nel settore videoludico c'è i giochi sono sempre c'è sempre sempre di giocare sempre alle stesse cose quello è il problema ma cosa alt f4 adesso 21 e 41 facciamo un altro 4 e finiamo dai 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 tanto perdiamo un po di tempo a fare questo sto fermo come male giro che succede no gioca e fai finire cioè chiudiamo prima ti ho dato la tier 2 e quanto vi pagate al 2 a male perché non puoi avere l'amore di nicola e vedi gerla mai lo mettete in fila c'è gerla ci sono io c'è topolino no topolino proprio non mi piace dopo topolino ci sono io vabbè tutti vogliono bene a nicola ricorda fai lo streamer fai i picchi soldi no perché poi non mi vogliono bene più ma quindi non mi volete bene allora riprendo dallas no dallas di polterri se pensi se ti pigli dallas pollo ti ti ammazza no a giro è vero c'è fondo poi che devi prendere polvo il pacchetto merda cazzo vuole qua il primo lo conosco da vent'anni dalla servizio di test di minchia io ho abbastanza amore da dispensare a tutti puoi venire giro anche a me nicola no a te no vabbè sono pelato sei operato sono pelato sai che ce la fai ci credo ci credo macchina che fai dallas io voglio saltare della rampa di bianco ma ritornare all'inizio fabio dimmi ricola se ti regalo un viaggio in turchia dovrai il trapianto di capelli noi non sono sabato quindi no se mi regalo un viaggio in turchia ma che cazzo di trapianto devo fare no devo fare il passaporto adesso vedendo per sempre un eventuale viaggio in giappone già c'è il passaporto però perché polus e dove deve andare non è che effetto il passaporto se deve tornare qui da me la faccio non mi farmi fare le fogo e io devo andarmela a fare vediamo stasettimana che entra prima ma peraltro per la patente devo per forza fare il rinno della patente spinta mentre stavo salendo la spinta ma sto giocando malissimo la forza la forza g gravitazionale 9.81 per metri al secondo dove cazzo va metri al secondo quadrato di cosa ha finito al quadrato che cazzo è che si va qui non ci arrivo ragazzi non ci arrivo intanto tra un turno e un altro dormo ma è tutto questo sonno nicola dai ce la puoi fare è tutto questo sonno pensa quando dovrei farlo tutti i giorni giorni non vado via a piedi perché poi ci tornerai a scuola adesso da tempo a occhi a 5 minuti io poi sono andato a piedi al c si 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 al c torno commerciale come ci arrivo lì ma lì c'è una roba aspetta finito bravo uomo puma non è uomo puma niente modo perché si è ribaltata così perché si è ribaltata così non c'era un cazzo dai e nicola secondo le penso è l'esa sto giocando scazzato ma che gioco di merda porca proia e io sto giocando serio ma quanto mai ah c'è pure di kishimaru vedo in lizza per nicola quindi dove c'è scritto e risposto pure oh mio dio sei proprio napole ciao cazzo fa non serve no c'è su te lega non serve scoppia dai macchina scoppia forza ma se un coglione diventa bastardo testa di cazzo napoletano serve dire sottolineare queste cose potrei insultare in questo momento che sta in mezzo ma se sto qua io che cazzo vuoi tu pure io stavo dietro di te prima prima quello che ha puntato una volta che mi hai buttato fuori mi hai bullizzato vandalizzato ora chiamo i miei followers chi ti faccio arrivi faccio trovare sul tuo caso bene porca miseria facciamo poi facciamo finire il caso sul cebero podcast che non esiste più diventa un caso nazionale grazie al cielo eh non salta 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 il parcheggio perfetto giro come fai senza sempre lo podcast adesso ma è Caesar che purtroppo è Caesar potete seguire il podcast il mio podcast preferito sai quale è bravo giro eh sentiamo eh il mio podcast preferito lo fa poche volte ma ritornerà il 15 settembre alle ore non mi ricordo e si chiama non mi ricordo come ma nella 12 ore allora il fatto che la rassegnazione stampa e non lo farà Caesar che lo fa lo fa lo fa lo fa Gerla durante le 12 ore però ritorna il sabato poi appena e non c'è Caesar lavora giro non è come noi cioè come me come te è come l'Iezar che facciamo un cazzo la mattina la sera come te il moro effettivamente chi è che lavora nessuno eh eh anche di cosa ma chi è che lavora nessuno ma è sabato la 12 ore no è domenica la 12 ore torna con Gerla ma poi ritornerà sul disco ogni sabato con Caesar penso da settimana successiva come ci si arriva lassù in alto tempo che finisce di lavorare che tra poco finisce il suo periodo destino il periodo del lavoro destino ma si vede la mappa e adesso non puoi più e fare start ispezione ah lo può fare durante il gioco sì sì sono arrivato però potete guardare il podcast dei termosifoni nel canale dei termosifoni live è giusto Riesa? live non sono i termosifoni? non è la DUSO sì live non sono i termosifoni è vero perché non l'avevi chiamato così? no si chiama così al final live non è i termosifoni no perché fa scritto di me vabbè perché live non è la DUSO invece era un bel titolo non è un bel titolo niente con il babbara pulso fa poco puttano ma c'era un nodo più manso me l'ha preso? no non me l'ha preso perché ho speronato Nicola la puttana Nicola chi è tu sei? è bello ma ce n'è uno lì che voglio prendere no l'ho preso già ce n'è uno qua patto Vabbè tutti sto prendendo Porca troia Ehi ciao v4 Vola bianca colomba vola A porca reba Bioto sei una merda Io? Si Vola con tanto fiatto in cola Vola in cola Il buio ti innamora AAAAAH Vola 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 Eh ma niente la miss Porca troia Becciotti Quante ce ne sono di sti cosi? I cosi Vola 9 Sono con su Volato del cartello I parcheggi sono segnati in alto a c Si infatti Ok Ah Si 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 No 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 Si o no? Ma lì ce n'è uno Bestia Ma io Popopio Popopio Che ho preso Perché c'è il turbo qui? Nicola e lezza hanno finito Penso che stanno giocando senza voglia Ma io senza voglia no Però Dove sono altri parcheggi? Io non ci credo che siano su No ci posso credere C'è qualcuno tipo qua dietro No Dallas non l'è sotto sicuramente Pazienza dai Ultimo round Vedi che già sono 53 lì Ho fatto finire il supplizio Abbiamo finito dai L'ultimo E poi ci sentiamo sicuramente Probabilmente a lunedì direttamente Ma Cosa è una mappa di minecraft questa? Poi andiamo tutte a giocare a minecraft No La potresti fare una live su una mappa per Così Di cosa? Non devi costruire Devi solo saltare e arrivare alla fine Ma di cosa? Ah tipo le batte a rollo Le modalità quelle lì su minecraft Quella roba da Che cazzo è sta roba? Che mi ha fatto? Eh ti congelli dopo Ah ti congelli se ti rimani troppo tipo? Sì Sembra quello dello zucchero filato Alla parte le battute parlando neanche con pollo Mi sta un po' intricando Cioè guardando i termos Minecraft mi ha spruzzicato un pochettino Ve l'avevo detto anche a voi Però se pensi che costruire sia No dai Devo Devo giocarlo Devo giocarlo per capirlo Au 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 C'erano milioni di modi per giocare a minecraft Ola Ola Mignolini di modi? Milioni Mi faccio insegnare la mia nipote che ne sa Ah ecco In effetti Live con la nipote? Su minecraft Ha criticato i termos sull'altra mattina in live Eh ma stanno facendo le anni in creativa Eh po' Demonio Oh no Da lì capisci quanto sono anziano Quando sento una mia nipote Eh sono diventato un ghiacciolo Adesso diventa quel cazzo vero? Si E più omenz Ragai Sto bello in un moito in questo Ma dai cazzo dai Non c'è niente qui Oh c'è un parcheggio qui dai C'è un parcheggio Non c'era io Nooo Ho scoppiato Ho scoppiato signore Ho scoppiato signore Ho fatto il kamikaze Porca di quella miseria No non saltare Per una volta non saltare Non saltare È solo Guida Brava Oh ce l'abbiamo avanti Nooo Intanto Io gioco solo per completismo Tipo come Su Nei Socks Facciamo completismo su sto gioco Daiii Eh devo girare Molo Come si incarica la Verocente Nooo Ci sono passato di piano Ne mancano tre Vabbè Vabbè io Me la rischio Wiii Vai dico la urla Forza Juve a Napoli Non posso farlo più purtroppo Nooo Nooo Deve ricordarmi di giocare alla salina La schiettina Eh si No Non la prendo No ma fai bene ripeto Ma pure io dovevi provare a Non vinto mai anche tanto Non vincere un cazzo mai eh Però Eh porca troia Però siamo sempre lì Non puoi Non puoi vincere se non giochi Ciao Si infatti Sai cos'è? Le schiettine di calcio Di cosa? Se hai una conoscenza Molto approfondita del calcio Si quello è vero Sempre Ma hai buone probabilità di vincerla Nicola la finiamo che stai aspettando te eh Si Di gente che sa tipo Grazie Di tutti i giocatori Di in che stato si trovano Si ma davvero Delle notizie Tipo che uno si è infortunato Quell'altro sta meglio Quell'altro va d'altra squadra Quell'altro invece fa schifo E io vado a culo Letteralmente Si vado pure io Ok signora abbiamo finito Per la gire di laser Sei contento? Dodo Dodo Che rifaremo la prossima volta No? Va bene Mi ricordo che tu l'hai detto oggi Ma quello o quell'altro Abbiamo scelto questo Va bene ragazzuole Abbiamo detto un'oretta Una lei piccola Tranquilla Abbiamo fatto proprio un'ora Precisa precisa Ma Giusto per far qualcosa Niente di che Niente di più Fammi vedere una roba Quindi niente Signora Andiamo in sigla finale Chiudiamo qui E Ci vediamo Sigla E allora Io Vi ringrazio Per avermi seguito in questa breve live Così Questo venerdì sera Ringrazio Andrea Per Per il Prime Per Ricordo il mese 59 mesi Quindi grazie Andrea È andato da seguire Che fa domenica pomeriggio Fa live Eh Salutiamo Le persone simpatiche Che si sono contese Il loro amore per Nicola Ciao Dallas Ciao Ciao Lieza Ciao Mono Ciao E ciao Nicola Che troveremo nella prossima puntata Del gioco delle coppie Ciao 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 E noi ci sentiamo quando Allora domani no Domenica non credo nemmeno Ci sentiamo quasi solamente lunedì Alle ore 21 E poi vi ricordo domenica prossima Ormai ci siamo Manca poco più di Poco più di sette giorni Alla 12 ore Del 9 anni del canale Devo vedere se riesca pure a fare un piccolo video Con molte clip anche vecchie Vediamo un po' se ce la faccio Ehm Fa qualcosa di bellino Ehm Durante una pausa pranzo cena Ehm E niente Buon fine settimana Ciao 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 Ciao